Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video, vi ricordo di iscrivervi al mio canale di YouTube e di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Oggi vi parlo di soldi, perché dovrebbe arrivare un bonus e poi vediamo anche tutte le scadenze dei pagamenti da parte dell'Inps di questo mese. Quindi partiamo subito con il bonus. La Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle propongono un bonus del valore di 200 euro per i pneumatici ecologici green. Cosa vuol dire? Vuol dire un bonus da 200 euro a tutti i possessori di auto che servirebbe per l'acquisto di pneumatici ecocompatibili e sicuri, quindi quelli che hanno un'etichetta di classe A o B che identificano i modelli con minore resistenza al rotolamento o minore spazio di frenata. Questo è quello che hanno chiesto da Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle con tre emendamenti da inserire nel decreto energia. Il testo dell'emendamento che dice che serve per, e adesso vi leggo che cosa dice, conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada nonché ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante. Non so se mi sono spiegato, più o meno è quello che vogliono dire. E comunque prevede un fondo da 20 milioni di euro per il 2022 fino ad esaurimento delle risorse, quindi finché non finiscono i soldi, concedendo proprio dei buoni da 200 euro per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici. Ora vediamo tutti i pagamenti dell'Inps già a partire dal 15 di marzo e fino al 28 di marzo. Partiamo con i pagamenti dei dipendenti della pubblica amministrazione che dovrebbero arrivare tra il 23 e il 28 di marzo. Poi abbiamo il bonus IRPEF per i percettori di NASPI. Le date per questo sono già partite dal 15 di marzo, ma comunque ogni beneficiario può ricevere questo pagamento in una data diversa e dunque quindi i pagamenti andranno avanti comunque fino al 25-26 di marzo. Adesso non so se il 26 è un sabato, una domenica, comunque fino al 25. Poi avremo il bonus BBPEF per chi è ancora in attesa del pagamento di questo bonus. Si parla comunque di pagamenti entro la fine di marzo. Poi abbiamo il reddito di cittadinanza. Normalmente il reddito di cittadinanza viene pagato tra il 15 e il 27 del mese. Il pagamento comunque per tutti coloro che non lo hanno già ricevuto al 15 di marzo arriverà dal 25 di marzo perché il 27 è una domenica. Inoltre sempre nel mese di marzo potrebbero arrivare anche gli eventuali rimborsi per tutti gli errori tecnici che ci sono stati qualche tempo fa con l'Inps nelle settimane scorse e ad alcune persone era stato pagato comunque un importo più basso rispetto a quello che si aspettavano. E per questi ritardi saremo comunque a vedere che cosa succederà. E come sempre anche qui se vedete delle date diverse fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Tra l'altro vorrei aprire una parentesi e parlarvi delle mie dirette live. Io vado in onda in diretta live il giovedì sera e la domenica sera alle 9 e un quarto sul mio canale di YouTube. E poi una nuova rubrica che esce il sabato sera alle 9 e un quarto sempre qui sul mio canale di YouTube dove vi parlo della rassegna stampa. Quindi voi dovete semplicemente ricordarvi il giovedì, il sabato sera e la domenica sera alle 9 e un quarto sul mio canale di YouTube. Chiusa parentesi torniamo a parlare dei nostri pagamenti. Abbiamo l'assegno unico dal 15 di marzo quindi già da un po' sono partiti i primi pagamenti di tutti quelli che hanno fatto domanda entro il 28 di febbraio. E per chi non lo avesse ancora ricevuto il pagamento sarà fatto credo entro il 21 di marzo. Anche per questo fatemi sapere se avete già ricevuto i pagamenti oppure no. Così mi tenete aggiornato anche a me. Mentre invece per tutti quelli che hanno inviato la domanda dopo il primo di marzo il pagamento arriverà probabilmente nella prima metà di aprile. Poi abbiamo l'integrazione sul reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda quindi l'integrazione dell'assegno unico temporaneo, quello vecchio, che riguarda la mensilità di febbraio e anche tutti gli eventuali arretrati, la data era quella del 15 di marzo ma IMSS comunque per tutti quelli che lo stanno ancora aspettando sta portando avanti tutte le pratiche dei ritardi. Quindi i pagamenti anche per questa integrazione andranno avanti fino a fine mese e comunque entro fine mese dovrebbero terminare i pagamenti. Con questo è tutto, ti ringrazio per avermi guardato. Ti ricordo di iscriverti al mio canale di YouTube qui sotto e di attivare anche la campanellina così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità. Ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. Ti aspetto. Ciao! Ciao! Ciao!